Corri qui, corri così, vai, ferma! Mannaggia Pippo! E' troppo panico! Non urlate mannaggia voi anche a Pippo e a Clara Bella! Quella sforcacciona aspetta, ecco! Prendi la garota! Che è questo? Ma l'avete vinto! Ma chi è quella? Ma chi è una patata? Cioè il figlio del maiale è una patata